ciao ciao buonasera a tutti bentornati a Islartichow io sono qui in Torino Sopterranea decima quinta edizione e sono con la signorina Evrida Gli conta un po' del tuo progetto musicale? Allora noi abbiamo iniziato nel 2013 fare dei cover come Evrida che sono iniziali di tre nomi che hanno fondato questo gruppo Eva, Rinaldo e Davide Poi ci siamo un pochino persi di vista e quest'estate ci siamo ritrovati abbiamo pensato di mettere su un progetto di brani inediti che ci piace molto con l'ordine nella tua mente per imparare a volare non ci credi, non ci credi e ti dì sempre a presente che non basta pensare e non credi, e non credi 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 è la vicissitudine della vita perché ci si soffre, ci si gioisce e questo è bello quando uno può scrivere una canzone che può parlare di noi La gente per sentire le tue brani e seguire un po' tuo progetto musicale dove puoi cercare c'è le red social e tutto quanto? Allora per ora abbiamo un canale di youtube con nome Evrida poi pagina facebook anche Evrida e poi stiamo preparando un disco che dovrebbe uscire a primavera l'anno prossimo Tutti collegati per sentire e conoscere il progetto di questa bella donna che sicuro ha una bellissima proposta e per 2019 aspettiamo questo nuovo progetto che uscirà altre cose bellissime ragazzi grazie di accompagnarci qui, grazie a te Evrida Grazie a te, ciao a tutti Ciao Grazie a te, ciao a tutti Grazie a Siri e un ragazzo straordinario e sentirete parlare ancora di lui stiamo collaborando su un nuovo disco per questo brano qua, grazie Grazie a voi